Adesso ho mai spesso aperto, non c'è più mai spesso aperto, no, cazzo devo prendere mai spesso, venga la madonna, come ci sono carenze a cantare, siamo proprio usciti, due minuti ragazzi, non abbiamo, povero lavorato così, però si perde tutto il resto, la musica è anche tutto il resto, per quanto guarda lui, no.